In questo tutorial impareremo a inserire un nuovo articolo. Per entrare nell'area amministratore del nostro sito realizzato in WordPress entreremo dal nome del nostro sito, slash, wp-admin. Ci appare questa schermata, inseriamo il nostro nome utente e la nostra password e ci colleghiamo. In pochi secondi apparirà la bacheca che ci dà una visione d'insieme dell'andamento del sito. Quello che ci interessa è andare sul menu articoli e fare aggiungi nuovo. Nella pagina che mi si apre devo effettuare 5 operazioni, mai meno, sono indispensabili. La prima ovviamente è il titolo. Attenzione, il titolo che inseriamo dà il nome alla pagina, ovvero al link, vedete? Seconda operazione, inseriamo il testo. Io ho già copiato un testo da una pagina Word e lo incollo. Però, se non voglio portarmi dietro il link e lo stile della pagina di Word, uso questo tasto. Incolla da Word. Mi si apre una finestra in cui con CTRL-V io inserisco il testo copiato. Inserisci. A questo punto sono certa che l'articolo che sto inserendo prenderà lo stile del portale, del sito, e non lo stile del documento da cui proviene. Intendo grandezza del carattere, tipo del carattere, colore, eccetera. Terza operazione. Scelgo in che categoria deve rientrare il mio articolo. È fondamentale, altrimenti non sarà visibile. In questo caso scelgo sport. Così poi andiamo subito a vedere. Quarta operazione fondamentale. I tag non sono nient'altro che le parole chiave associate provenienti da questo articolo che servono per indicizzarlo su Google. Quindi è molto importante che siano pertinenti e ben scelti. WordPress ci dà la possibilità di scegliere tra le parole chiave già inserite. In questo caso, per esempio, trovo già sport. Eccolo qua. Ci clicco e lui me l'ha aggiunto qui. Posso anche aggiungerne di nuovi, ovviamente, purché siano attinenti con l'argomento del mio articolo, in modo che l'indicizzazione sia pertinente e che Google non mi indicizzi un articolo che ha gli stessi tag di tutto quanto il portale. In tal caso, la ricerca di chi ha inserito la parola chiave sarà inefficace e io avrò fallito la mia missione. Quinta ed ultima operazione. Inseriamo un'immagine. Con questa funzione, immagine di evidenza, io posso inserire un'immagine sia quella in evidenza, cioè quella che servirà ridotta ad icona nell'home page del sito, sia all'interno dell'articolo. In tal caso, o ce l'ho già tra le foto inserite, oppure me la prendo dal mio computer. Seleziono file, scrivania, Europe Night, scelgo questa foto. La carica, quando è arrivata al 100%, me la fa vedere in anteprima. Eccola. Ho un'anteprima della foto, la mia anteprima in un page sarà esattamente così, ho un riepilogo delle caratteristiche di questa immagine, il nome. Se dovesse essere un numero, una sigla, è meglio sempre rinominarla, in modo che sia attinente all'articolo e al portale, perché anche il nome dell'immagine serve a indicizzare l'articolo. È un tag. Poi decido come voglio inserirla nell'articolo, a sinistra, al centro, a destra. La posizionerà dove ho messo il mio cursore. E scelgo anche la dimensione. Essendo questa molto grande, sceglierò una dimensione media. A questo punto faccio due operazioni. Utilizza come immagine in evidenza, cioè nell'anteprima in home, e inserisci nell'articolo. A questo punto non mi resta che salvare e pubblicare. Vado a vedere in home page, faccio un refresh, e mi vado a vedere nella sezione sport. Eccolo qua. Ecco il mio articolo. Ovviamente, essendo un finto articolo, adesso torno nell'area amministratore e l'oggetto nel cestino. C'è innanzitutto. Grazie a tutti.